Rendere il sistema più efficace e sostenibile e al tempo stesso garantire la salute dei cittadini e la qualità del lavoro degli operatori sanitari che vi operano. Sono questi gli obiettivi della riforma dell'emergenza urgenza che la Regione Emilia-Romagna sta portando avanti tra le prime in Italia a ripensare questo sistema e uno dei tasselli più importanti di questa riforma riorganizzazione sono i CAO, centri di assistenza medica per le urgenze che sono l'evoluzione degli ABC che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi anche sul nostro territorio. Oggi in provincia di Ferrara i CAO sono tre, due sono gli ABC di Ferrara e Comacchio, evoluzione in CAO, il terzo è quello di Copparo che è stato recentemente attivato. Che cosa sono, come funzionano, con quali obiettivi rispetto a questa riorganizzazione dell'emergenza urgenza nella nostra provincia? Cercheremo di spiegarvelo insieme ai nostri ospiti a partire da Emanuele Ciotti, direttore sanitario dell'azienda OSL di Ferrara, Marica Colombi, direttrice della direzione tecnico-infermieristica dell'azienda OSL e Carlotta Serenelli, direttrice facente funzione dell'unità operativa a cure primarie dell'azienda OSL di Ferrara. Allora, io partirei dal dottor Ciotti, sappiamo bene quanto il tema dell'emergenza, delle attese nei pronto soccorso sia un tema molto sentito dalla cittadinanza e come dicevo, inizialmente la Regione Emilia-Romagna è una tra le prime ad aver deciso di intervenire proprio per riformare, riorganizzare questo sistema. La Regione Emilia-Romagna quindi sta riorganizzando con quella che sarà la riforma dell'emergenza urgenza presto deliberata, cercando di migliorare ovviamente il sistema, di efficientarlo, andando a fare che cosa? Cercando di dividere con tutto lo sforzo possibile quelle che sono le emergenze vere dalle piccole emergenze, quei codici bianchi e verdi che ovviamente possono trovare risposta anche in un setting diverso da quello del pronto soccorso. Di che numeri parliamo per intenderci? Noi nel 2022 in Emilia-Romagna abbiamo avuto 1.600.000 accessi in pronto soccorso, di questi circa un milione sono rappresentati da codici bianchi e verdi che potevano essere visti in un setting diverso. Di questi praticamente soltanto una piccola parte, cioè quasi la maggioranza di questi, ha avuto una solo prestazione, quindi capite che erano tutte condizioni che potevano avere un setting diverso del pronto soccorso e che hanno generato ovviamente un aumento delle liste d'attesa. Di questo 1.600.000 sostanzialmente addirittura quasi un 75%, 73% si autopresentava, presentava. L'idea quindi qual è? È quella di sostanzialmente dividere i due percorsi. Questo come può avvenire? Qual è l'idea e gli elementi su cui poggia questa riforma? Gli elementi sono sostanzialmente 3. La costituzione del numero 116, 117 per una piccola emergenza, urgenza, la costituzione di questo nuovo setting assistenziale, il cosiddetto CAO, centro assistenziale, urgenza e un miglioramento di quello che è il servizio del 118. Partiamo quindi col primo elemento che è il 116, 117 che sarà a regime pronto, questo numero unico delle piccole emergenze e speriamo entro il marzo del prossimo anno con questo numero sostanzialmente le persone che telefoneranno e come per le urgenze del 118 ritroveranno una risposta. Risposta che potrà essere o se in realtà chi telefona ha un vero problema di emergenza, attivazione del 118, oppure direttamente se è un problema di piccola emergenza invio al centro assistenziale urgenza, oppure se è un problema minore che può essere gestito ad esempio di un cronico dal medico vicino generale nella EFT, in aggregazione funzionale territoriale, direttamente fino al medico vicino generale. L'idea e il modello è cercare di far sì che riduciamo l'autopresentazione all'interno dei nostri pronto soccorsi. Nel centro assistenziale urgenza che sono stati anche firmati dalla sigla sindacale della Finge, che cosa costituiamo in questo nuovo setting in cui possiamo gestire le piccole emergenze urgenze. Costituiamo che è all'interno questa organizzazione, all'interno dell'assistenza primaria, un vero ambulatorio costituito da medico vicino generale, infermieri con dei servizi ovviamente aggiuntivi che possono quindi dare una risposta completa e definita al problema della piccola emergenza urgenza, quindi avere la possibilità di fare degli esami di laboratorio, fare della piccola diagnostica RX e fare della terapia iniettiva endovenosa all'interno di questa struttura. Dove sorgeranno questi centri assistenziali urgenza e dove già sorgono questi centri, perché sono già attivi, non soltanto da noi a Ferrara, ma anche in Romagna, come ad esempio il punto che viene sempre citato, che è quello di Cervia. E sostanzialmente funzioneranno H12, almeno H12, con possibilità di H16, fino all'obiettivo H24. Dove sorgeranno? Sorgeranno all'interno delle case della comunità, come gli esempi nostri della provincia di Ferrara, o eventualmente in un pronto soccorso che si decide di convertire in un CAO o un pronto soccorso che magari è stato chiuso e si reattiva e si costituisce, o anche all'interno l'opzione che è anche nell'accordo siglato tra regioni e organizzazioni sindacali, all'interno di una medicina di gruppo o aggregazione funzionale territoriale, quelli che sono i nostri nuclei di cure primarie, dove essere garantito per assenti, che sia tutta la popolazione di riferimento, che sia almeno H12 e che abbia quei servizi di cui abbiamo parlato, quindi diagnostica o esami di laboratorio. Questa è un po' quindi la cornice che ci troviamo ad affrontare, cui si inserisce ovviamente anche Ferrara. E come si collocano i CAO rispetto alla cosiddetta guardia medica, ovvero alla continuità assistenziale? Allora questo è molto importante, questa domanda è molto pertinente, nel senso che in parte, come abbiamo detto, i CAO fanno parte comunque dentro l'assistenza primaria, quindi dentro al dipartimento delle cure primarie e noi abbiamo una continuità assistenziale che come la continuità assistenziale che poi diciamo meglio dovrebbe essere chiamata assistenza primaria a quota oraria, per differenziarla quella che è l'assistenza primaria a ciclo di scelta, che è il cosiddetto medicina generale, quindi cosiddetto medicina generale, però più propriamente dovremmo definire così, proprio perché c'è un'integrazione tra questi servizi, quindi i servizi ovviamente si vanno a integrare, è chiaro che questo è un lavoro ovviamente molto importante che spetta alle organizzazioni delle aziende e alla parte anche delle organizzazioni della medicina generale, quindi noi sostanzialmente andremo a costituire i nostri centri assistenti all'urgenza proprio col personale dell'assistenza primaria a quota oraria, con i nostri medici della continuità assistenziale, perché loro sostanzialmente hanno la priorità, ma potrebbero essere anche dei medici medicina generale, ovviamente non massimalisti, che in qualche modo dedicano delle ore a questa attività. Ricordiamo che il centro assistenziale urgenza funziona sostanzialmente appunto anche di giorno, cosa che la continuità assistenziale ovviamente non faceva. È chiaro che dove sorgerà un centro assistenziale urgenza rivedremo in qualche modo l'organizzazione, quello che in parte si sta anche provando a fare un ruolo di sinergia e di integrazione, anche andando a costituire quello su cui stiamo lavorando, lavorando nell'attesa di costruire il 116 e il 117 regionale, costituire un'unica centrale telefonica a livello provinciale, non avere come qui abbiamo in questo momento i nostri 15 numeri di telefono, ma avere un'unica centrale che quindi fa l'attività telefonica e separare quindi quello che è l'attività telefonica da quello che è l'attività o ambulatoriale o all'attività domiciliare. Nel progetto che si sta andando a costruire anche con il cavo aumenta notevolmente, praticamente anzi triplica, ma quadruplica se consideriamo anche le ore di assistenza urgenza, le ore di ambulatorio che dedichiamo, che sono il vero valore aggiunto e andiamo anche incontro un po' a quello che molti medici della continuità assistenziale ci chiedevano, cioè lavorare in sinergia con altre figure professionali e quindi avere anche a disposizione l'infermiera. Ecco, Ferrara è partita già alla fine del 2022 con gli ambulatori ABC che dobbiamo dire inizialmente non avevano preso gran piede rispetto agli accessi dell'utenza, poi piano piano mano a mano che i cittadini hanno capito la funzione di questo nuovo servizio, devo dire che abbiamo visto dai numeri gli accessi sono aumentati. Possiamo dire che stiamo iniziando a vedere anche un effetto di decongestione sul pronto soccorso, visto che questo era uno degli obiettivi? Allora, noi siamo partiti, l'ha detto molto bene, con un modello sperimentale H6 sulla casa della comunità di San Rocco e come tutti i progetti bisogna essere umili, bisogna ovviamente lavorare, lavorare con la cittadinanza, lavorare con la medicina generale, con tutti gli attori in gioco perché un nuovo servizio deve essere conosciuto e anche sperimentato. Quello che abbiamo visto, andando grazie alla comunicazione, grazie all'Avis, grazie ovviamente anche all'amministrazione comunale col Tantama, i numeri sono aumentati chiaramente, tant'è che siamo arrivati all'H12 e avere mediamente quasi 20 accessi, fino a dei picchi di 40 accessi all'interno di San Rocco in un H12, quando pensate che gli accessi al pronto soccorso di Argentina H24 mediamente sono circa 35, quindi dei numeri importanti, che hanno avuto anche un effetto su quello che è il nostro pronto soccorso principale, che è quello di Cona, con un dato statisticamente significativo di una diminuzione sui codici bianchi e verdi in questi mesi. Quindi vediamo un effetto che va monitorato, va informato, ora noi siamo partiti, ne abbiamo tre, come sapete, quindi con San Rocco H12, con l'idea di arrivare presto a un H24, con un H12 e quello di Copparo appena inaugurato il 3 luglio, anche questo H12. L'intenzione in quest'anno è di attivarne 5, quindi poi passare a quello di Porto Maggiore e infine a quello di Vicento, per vedere ovviamente e monitorare insieme a tutti gli attori il funzionamento, perché è chiaro che un cao a Ferrara e la città ha un significato, a Comacchio ne ha un altro, ogni realtà è diversa e deve essere valutata e fare una comunicazione specifica, perché come ci insegna anche il DM77, dobbiamo radonare ovviamente i termini di comunità e quindi analizzare ovviamente i contesti dove i servizi ovviamente si vanno a inserire, però il dato di fatto è che vediamo sicuramente su Ferrara un effetto positivo sul pronto soccorso e la cittadinanza vediamo che è contenta del servizio, questo come dire ritorno positivo dei cittadini è molto importante ovviamente per una valutazione dell'impatto dei servizi sanitari. Grazie dottor Ciotti, come dicevamo il primo a partire è stato l'ABC di Ferrara, successivamente c'è stato quello di Comacchio e dal 3 luglio scorso è attivo anche, questa volta con la denominazione CAO, evoluzione dell'ABC, anche l'ambulatorio di Copparo. Allora vediamo in questa scheda come funziona, quali sono gli orari, quello che può fare. L'ambulatorio CAO è situato all'interno della casa di comunità di Copparo, si trova al secondo piano vicino all'ospedale di comunità, ambulatorio 2.13. È aperto 7 giorni su 7, H12, quindi le prestazioni vengono eseguite dalle ore 8 del mattino alle ore 20. La presa in carico del paziente avviene attraverso un team multiprofessionale di un medico e di un infermiere. L'ambulatorio CAO si occupa della presa in carico di problemi sanitari di carattere acuto, ma di modesta entità, i cosiddetti codici minori, che necessitano di un inquadramento diagnostico e relativo trattamento in tempi rapidi. Ad esempio, manifestazioni dolorose non risolte con i farmaci di uso comune, come dolore articolare, muscolare, febbre, ferite superficiali, manifestazioni cutanee, medicazioni e altre prestazioni infermieristiche. I pazienti si presentano senza un accesso, è un accesso diretto, quindi non c'è prenotazione, non c'è un triage, quindi il paziente che giunge viene esaminato direttamente nell'ordine in cui arriva e è un ambulatorio che è prevalentemente indirizzato a quei casi che non sono da pronto soccorso. Questo non è un pronto soccorso, non è un primo intervento, ma consiste nella presa in carico di medicazioni, prestazioni infermieristiche, magari quei dolori muscoloscheletrici tendenzialmente che non possono essere, che non riescono ad essere trattati dal paziente normalmente a casa propria. Durante il percorso di assistenza in questo ambulatorio il team costituito da medico e infermiere si prende cura del paziente, lo analizza, diciamo, fa un'obiettivazione, inquadra il paziente. Noi facciamo quelle prestazioni infermieristiche che possono essere i parametri vitali, le medicazioni eventualmente dei prelievi. Altrimenti c'è la possibilità di prescrivere anche delle lastre dove si è ritenuto necessario, di prescrivere esami, di fare impegnative che però non devono rientrare in una routine, quindi il paziente non deve sostituire, diciamo, il proprio medico di famiglia con questi servizi, ma gli esami prescritti qui vengono prescritti solo nel contesto della visita. Con questa scheda abbiamo già iniziato a capire un po' di più qual è il ruolo dell'infermiere, qual è il ruolo del medico nell'ambito di questi nuovi ambulatori, questi nuovi servizi. Vediamo però insieme a Marika Colombi, direttrice della direzione tecnico-infermieristica dell'azienda USL è un po' meglio, qual è il ruolo dell'infermiere, anche l'organizzazione che c'è dietro alle figure e professionisti sanitari e anche alcuni dati relativi all'attività dei primi mesi e in questo caso naturalmente ci riferiamo agli ambulatori di Ferrara e Comacchio, ABC, oggi CAO. In azienda USL questa riorganizzazione è iniziata in tempi non sospetti perché già a settembre dell'anno scorso, quindi nel 2022, partimmo insomma a settembre con il primo ambulatorio della bassa complessità, il cosiddetto ambulatorio a bassa complessità che di fatto prevede alcune caratteristiche che poi saranno mantenute anche nei CAO. Quindi potremmo dire che questi ambulatori, cioè i CAO, sono ambulatori che rappresentano la naturale evoluzione dell'ambulatorio ABC anche per i contenuti che le caratterizzano. L'equip che compone l'ambulatorio a bassa complessità è costituita da un medico e da un infermiere, questo orientativamente per circa fino a 14.000 accessi l'anno. L'articolazione oraria è diversa, in provincia siamo partiti con Ferrara che aveva inizialmente un'attività sette giorni su sette, quindi dalla domenica al lunedì successivo e con un'articolazione oraria su sei ore. Mano a mano che le attività sono andate consolidandosi e gli accessi sono incrementati, siamo poi passati a un'attività sette su sette, quindi appunto da lunedì alla domenica H12, dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Il personale infermieristico che abbiamo reclutato per fare questa attività è il personale infermieristico che ha una pregressa esperienza clinico assistenziale, preferibilmente nell'area diciamo nel Dipartimento dell'Emergenza del DEU o comunque insomma un'esperienza clinica consolidata di almeno due barra tre anni. A questo personale è stata fatta una formazione specifica che riguarda i percorsi che abbiamo attivato all'interno del CAO, quindi tutta la parte di utilizzo e di gestione degli esami di laboratorio attraverso i POCT o cosiddetti point of care, che sono delle apparecchiature che permettono di eseguire esami di laboratorio e di avere in modo immediato, quindi istantaneo, il referto e i percorsi verso la radiologia, quindi le classiche diciamo proiezioni radiologiche ma anche l'ecografia. L'infermiere che è presente all'interno del CAO fa una presa in carico, quindi attraverso una valutazione d'arrivo con accesso diretto la classica chiossolina si prende il numero, l'infermiere fa la presa in carico e poi si accede in tempi molto rapidi all'interno dell'ambulatorio. Mediamente la pratica viene presa in carico e chiusa circa in 60 minuti, quindi una risposta significamente tempestiva rispetto alle lunghe attese che i codici bianchi o i codici verdi sono costretti appunto ad attendere all'interno dei pronto soccorsi. Questo percorso formativo complessivo è stato replicato da Ferrara che è stata un po' diciamo la nostra apripista, successivamente nella casa della comunità di Comacchio dove siamo partiti ad inizio del 2022 e da giugno siamo passati da un H6 7 giorni su 7 a un H12 sempre 7 su 7 e per il mese di agosto è previsto di arrivare fino alla mezzanotte perché questa è una casa della salute diciamo di prossimità rispetto all'attività turistica della costa e dal 3 luglio è partito anche la casa della comunità di Copparo con un H12 7 su 7. Completerà questa prima tranche tra ottobre e novembre l'avvio della casa della comunità di Portomaggiore in termini appunto di rete provinciale. In termini di volumi di accesso possiamo sicuramente dire che il trend sia nella casa della comunità di Ferrara che in quella di Comacchio è un trend significativamente significativamente in crescita. Per quanto riguarda Ferrara siamo oltre le 3.300 accessi di utenti complessivamente da settembre ad oggi e siamo quasi a 900 accessi per quanto riguarda Comacchio il dato aggiornato a ieri. È chiaro che l'avvio di questi ambulatori ha necessitato di una grande significativa campagna comunicativa e di informazione per far comprendere alla gente che tipologia di prestazioni si può svolgere all'interno di questi CAO. Quindi per quanto riguarda l'attività assistenziale e infermieristica sempre in collaborazione con il medico piccole medicazioni rilevazione dei parametri moltissimo counseling addestramento educazione terapeutica orientamento anche i percorsi proprio per facilitare una presa in carico globale. È chiaro che questi ambulatori si inseriscono in una rete strutturata di servizi e non sono un'alternativa alla medicina generale ma anzi si integrano all'attività dei medici di medicina generale e allo stesso tempo non sono un pronto soccorso e nemmeno un punto di primo intervento ma sono una risposta nell'ambito della territorialità quindi di prossimità all'interno della rete dell'emergenza. Come dicevo i dati sono sicuramente in incremento tanto per fare un esempio su Cittadella San Rocco arriviamo ad avere anche circa 40, 45, 48 accessi giornalieri che sono complessivamente gli accessi che abbiamo per esempio sul pronto soccorso complessivamente sul pronto soccorso di Argenta. In questo momento non accedono al CAO il target di popolazione pediatrica e le donne in gravidanza perché è chiaro che eventualmente per aprire anche a questa fascia specifica di popolazione è necessario effettuare una formazione puntuale sia al personale medico che al personale infermieristico quindi potrebbe essere una possibile evoluzione che ad oggi ancora non è attiva. Il sistema di gestione all'interno dei CAO permette laddove ci dovesse essere una sintomatologia sottovalutata di avere un accesso diciamo privilegiato e una linea diretta con i pronto soccorsi quindi nel momento in cui il clinico intercetta una sintomatologia tra virgolette tempo dipendente o comunque che prevede un intervento, un trattamento insomma più complesso e una gestione effettivamente emergente esiste una correlazione immediata con l'emergenza territoriale 118 che in modo tempestivo attiva l'autoambulanza e centralizza il paziente. Abbiamo visto un po' di più su tutto quello che è il ruolo anche la formazione del personale infermieristico chi sono invece i medici che operano nei CAO e quali sono le casistiche più frequenti che incontrano tra i cittadini che accedono a questo servizio ce lo spiega la dottoressa Carlotta Serenelli. Per quanto riguarda i medici attualmente abbiamo i medici della continuità assistenziale essenzialmente possono anche far parte medici di medicina generale quindi i medici che hanno già la convenzione e vengono organizzati tramite ovviamente una turnistica che permette ovviamente di avere una copertura H12 su tutte e tre le strutture che abbiamo aperto. Quello che intendiamo, intendo insomma gestendo i medici fare è sicuramente quello di aumentare le loro skills in termini di cliniche quindi in termini di varie discipline. stiamo già organizzando corsi per le strutture semplici e anche vorremmo iniziare con la parte pediatrica anche se sappiamo che appunto è una parte molto come dire complessa per magari il medico che non è un pediatra ma abbiamo avuto comunque la collaborazione dei pediatri di libera scelta che sono disposti appunto a fare un po' da tutoraggio ai nostri medici. I nostri medici oramai sono come sapete da tempo insomma lavorano negli ambulatori sulle 12 ore quindi siamo diciamo abbastanza avanti nell'organizzazione e vanno a individuare quelle che sono patologie fondamentalmente sempre a bassa complessità. Quindi parliamo ovviamente in primis se vogliamo fare la nostra classifica oramai dopo tanto tempo di quelli che sono traumatismi che possono avere esiti di frattura o meno e qui è molto importante la radiologia proprio per questo per capire se l'individuo ha fratturato e quindi ha necessità di essere indirizzato immediatamente al pronto soccorso ortopedico nel caso di Kona o al pronto soccorso appunto nel caso dei nostri ospedali periferici trattano quindi in primis quelle unitamente a eventuali anche escoriazioni o medicazioni che devono essere eseguite e quindi qui l'infermiere ovviamente può intervenire. Un'altra patologia molto frequenti che vengono ad essere trattate e che hanno qui loro secondo me per il loro motivo di essere sono le patologie delle viere, le viere superiori quindi intendiamo tonsilliti, faringiti fino ad arrivare ovviamente alle basse viere con le bronchiti o anche a livello polmonare con addensamenti polmonari quindi focolai infettivi. Altre situazioni sono quelle che possono essere soprattutto patologie oculari anche qui ovviamente abbiamo non avendo ovviamente competenze, non permettendoci nemmeno di averle, ecco competenze di tipo oculistico possiamo trattare quelle che sono le patologie come l'occhio rosso, come dovuto magari alla allergie stagionali oppure la congiuntivite che sappiamo di origine più che altro generalmente batterica, più raramente virale quindi queste vengono trattate. Quindi queste sono diciamo le patologie più frequenti oltre a tutti i vari dolori muscoloscheletrici o articolari senza trauma che anche questi possono essere se il medico lo ritiene opportuno indagati con una ecografia muscoloscheletrica. Altre patologie sono ovviamente le otalgie quindi il dolore all'orecchio, dolori ovviamente anche addominali di lieve entità. Accanto a questi diciamo che poi c'è la parte della dermatologia e grazie ovviamente come abbiamo detto anche altre volte alla presenza dell'infermiere possiamo trattare dolori tipo sciatalgie, lombosciatalgie magari già conosciute dal paziente anche con delle fleboclisi quindi con una terapia un attimo più insomma efficace rispetto alla iniezione o alla compressa quindi abbiamo delle sale di osservazione dove il paziente può eseguire o anche in caso di disidratazione ad esempio può eseguire una fleboclisi con la supervisione ovviamente dell'infermiere. Il medico diciamo oramai è appunto abituato a questo tipo di di attività vorremmo comunque andare a appunto come dicevo i nostri obiettivi sono quelli per evitare questi soprattutto questi accessi impropri al pronto soccorso andare a aumentare sempre di più come come dicevo la componente clinica quindi di formazione del medico. Comunque nel caso dovessero presentarsi persone con sintomi particolarmente importanti il 118 l'auto direttamente presente in sede se non è presente viene chiamato immediatamente poi comunque siamo all'interno di strutture dove abbiamo persone formate per ogni tipo di situazione di rianimazione o di altro tipo. Bene allora abbiamo sentito in maniera un po' più approfondita tutto quello che succede sia a livello di formazione che di attività per quanto riguarda il personale medico e infermieristico presente nei cao che sono lo ribadiamo l'evoluzione degli abc ambulatori a bassa complessità prima di salutarvi vi riassumiamo con questa scheda i tre presenti sul territorio della nostra provincia agli orari e dove si trovano. L'ambulatorio cao centro di assistenza urgenza attivo a ferrara comacchio e copparo nasce per dare una risposta rapida alla cittadinanza e ridurre le attese in pronto soccorso composto da un equip multiprofessionale rappresenta un'evoluzione particolata dell'ambulatorio abc a bassa complessità ed è un servizio pensato per gestire casi urgenti ma a bassa complessità clinica ovvero i codici bianchi e verdi che includono dolori articolari muscolari febbre o piccole ferite. Le prestazioni che si effettuano nei cao sono ad accesso diretto senza necessità di prendere appuntamento e gratuite. Grazie a tutti. Bene allora noi ci fermiamo qui vi ricordo che tutte queste informazioni le potete trovare anche sul sito dell'azienda OSL di Ferrara in modo tale da capire sempre che cosa si può e che cosa non si può fare all'interno di questi ambulatori dove trovarli e quali sono gli orari di attività. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.